bella ragazzi qui salventiquattro ero ci siamo tornati sul passagatv questo nuovo video oggi appunto siamo qui con il 22esimo episodio su un chino del totem vecchie mappe zombie che invece Platano vi fa le accrobazie col col viscidone ecco fai le accrobazie eh si vabbè aspettate un secondo scrivo ok perfetto vai ammassiamo pure dai non perdiamo tempo se no la gente si scoccia a vedere sto video e dopo dicevo ma qua che fanno stanno qui a giocare col viscidone no andiamo subito oh canini oh i canini sono i tuoi amici Platano ci sono i tuoi amici eh si e anche gli amici del mio cannone zero hai detto tu hai detto precisiamo però del tuo cannone zero si è avuto oh ma che cazzo oddio non muoio neanche con le Glamour attenzione ah no è morto no come fanno non muoio ah no con due Glamour muoio non muoio con due Glamour è vero? si no mi sono diritto di andare ai miei Glamour eh deludono anche a me no ma come sono brutti i perk i disegni Sì veramente ma proprio vuoi farlo di bresso cioè con vado. Sembra di guardare ti è a punto di privato sembra di guardare un film bianco e nero molto più stamani sono sì infatti proprio lucente oddio vincevi ci sono due gane quindi c'è un bambino che sono i giornali per i bambini piccoli i giornali per i bambini piccoli sentiamo questa scavazione di pranzo all'inizio partita che è proprio così no no vuoi sapere che ragazzi è che a scuola prima di andare via ogni giorno ci deve essere sempre la stronzata del platano la stronzata del platano l'albero platano l'albero platano la stronzata del giorno deve essere di casa anche i professori adesso mi dicono maledetto c'è la stronzata certo perché se non si dice la stronzata la giornata non va bene si appunto, no, vi deludo tutti quelli di classe mia di qui te le sargo eh anche io perchè dovete sapere che platano io e platano andiamo in classe insieme eh si, però prima hai detto che stai andando più grande eh si, vabbè, non traiamo certe conclusioni che possono sembrare strane poi la gente si... era stato una... no, ma la gente si scandalizza dopo se dico certe cose magari pensa che ho magari marito, moglie cioè che c'eva moglie lì il barito, ecco no, 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 cazza se ti imparavamo dei piedi di inerle perché ti mancava un anno e me e due eh sì, no, scusa, a te non manca, a te non manca niente, ti mancano dei mesi, né un anno e un mese no, a me precisiamo, io sono andato a dicembre, quindi ancora mi mancano dieci mesi eh, io sono, io sono nato, eh, io sono nato a giù, mi mancano tre mesi, due due mesi più un anno però, eh d'accordo ah no, per si, 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 vabbè, a giugno, dicevo giugno del 2014 eh, io il 2013 si, vabbè, 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 che basta, dai vabbè va a poco salvi 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 quando ti va quando ti va a finito la matematica salvo da sempre il treno non fa male mai è meglio non fa anch'io vabbè ma te sei una calcola 10 umane, sapere che platano puoi fare i calcoli ci fai per no vabbè ora non lo posso impegnare perchè sta giocando ora ci sono i saldi meglio se ne parliamo a fine round dai se mettiamo alla prova platano io che fa a fare un mega calcolo tipo con te lo balistico con te lo balistico te lo balistico ho preso non so che ho preso perchè ho spedito e io qui adesso anche il bovi eh non c'è niente, quello potenti vero? io non ho preso nulla porca puttana mi sono alla schiudere oddio ce la fai? si si ce la faccio vedo qui che le vai così ah ah ci è che ci avvola ughe nella classe ma non chiuso sono dovuto scappare via ho fatto 10 punti vabbè dai vabbè 10 punti che sono 10 punti non è un problema pregato anche tu colpi per il cannone no eh quello è un problema quello è già diverso guardami odora le vostre delicate da un po' a me mi chiudevano qui qui saliva anche da sotto doppi punti ora li prendo si qui da lì non si fanno mai mai inizio round ah ti va beh inizio partita vai come come qua c'è l'allevamento di viscidoni c'è una decina questi qua l'allevamento di vitelli si vitelli si vitelli a quattro zampe c'è no perchè che cazzo dico in realtà i vitelli c'hanno quattro zampe i vitelli c'hanno quattro zampe scusate ragazzi ma sono proprio sono un quadrupedi eh si sono un quadrupedi mamma mia mamma mia 999 punti attenzione no 9999 no no ecco la matematica di tanto ecco la matematica ragazzi anche a leggere i numeri non riesco non vabbè dai 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 sto sto saltando come un coniglio non c'è nessuno con il mio coltello balistica ragazzi che ne dici se andiamo a potenziali se andiamo al pacco pace eh che puoi andare a potenziali allora ora mettiamo alla prova platano facci tipo 3.400 per 20 no vabbè ragazzi per 20 3.400 per 20 fa 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 vediamo 68.000 eh lo so che è stata la calcolatrice eh di la verità ma che cazzo dici la calcolatrice ve l'ho fatto ora no no è vero invece è bad basta fa no perché dopo i mandi vabbè sì veramente vabbè ora ti dà la calcolatrice tutti ti dà tutti la calcolatrice e andate a vedere se ho fatto ecco giusto vabbè ma fatto era abbastanza facile perché mi ha detto due numeri con i zeri finale vabbè allora facciamo un altro facciamo 133 no no basta no basta eh eh cioè no basta vabbè no vabbè allora niente vabbè dai vieni altri tra posti guardi guardi su fanno 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 133 per 33 Allora Allora prendi la calcolatrice Dai mettiamo i numeri Ci sei? No fallo pure Allora faccio qui la calcolatrice 133 4.029 4.029 No 4.299 No 39 4.239 No un po' di più Ci sei qua No fa 4.300 E poi No fa 4.000 No ma è 133 per 33 Oddio mi sono scordato di potenzialare Ma perché mi fai perdere Io devo potenziare il Galil E tu invece mi stai facendo qua E fa 4.389 Punto e basta ok Zio Guarda ma perdi colpi Via dai c'era vicino E ora si sta giocando anche a zombie Dai ora Non è concentrato dai Ma guarda come è pericoloso lo zombie gambizzato Dai come facciogli a pensare calcolatrice quando c'è un morto del genere che mi potrà subito Eh guarda senza una gamba poi c'è Ma vedi come mi mette pressione? Guarda Sono tutto rosso Ma mette pressione? Ma che occhi che c'ha? Guarda come mi distrae Guarda come mi distrae Guarda come mi distrae Poi senza capelli poi Ma i capelli dove? Cioè Sì appunto Le l'hanno tagliati? Cioè barbiere? Cioè è una bomba Facciamo perdere No ma credo che gli salino dai Verità? Eh sì perché Prima di farlo diventare zombie Sì Sì Si strappano capelli da solito Sì Vabbè dai Guarda come è il piede lui colso balistico Mamma mia Che cazzole Allora faccio tutto il round col balistico Vabbè mia Senti 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 Ma senti che affermazioni che dici Cioè ma Non so Tutto il round col balistico Oh ma che è round Cioè vabbè Ce ne vuole già tre colpi per ammazzare uno Eh infatti davvero c'è un casino Oh che c'è la prima stanza Eh yes Ah la stagasmo dopo ti dico quando devi attivare il tempo scorto bene Vabbè Vabbè Ma ancora non è rosso il cosetto lì Sì 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 dico io ho fatto quanto Ah ok ok E faccio qui in giro così Fiero È un accidente che non ho preso la clay Fiero anche se è fiero Tutti fieri sono Tutti fieri che fanno i giri fieri Nella prima stanza è molto fieri A me la prima stanza non mi riesce Cioè vabbè non c'è neanche mi ha trovato Eh ma è un po' un casino Vai Rai arrivo attivato il trasporto Sì aspetta Oh c'è istanchio Oh c'è istanchio Ah ok istanchio Ah ora c'è il balistico e adesso la festa Vai collegato Vai Dio mi lagga Non so perché mi sta laggando C'è una tacca Sei Platano 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 tra poco Platano tra poco Non c'è più Platano Vabbè Schifoso cagnaccio Mamma mia Come mi sono cacato addosso C'è la nuke C'è la Munizioni anche Munizioni Tira la scimmia Tira la scimmia Ah ok Vabbè Tanto non c'è nessuno Vabbè Vabbè Prendi allora Vai Tira pure Tira pure Vai Oh ma si è tirato la scimmia Perché non ce ne vanno Ci stronzi Oh Vabbè Oddio mi bloccano Mi sa che c'è anche un altro bonus No Qua Io qua non vedo uno Vabbè Vabbè Ma che so sti cosa Vabbè Io fammi qualche cassa Un po' dove mi tengo 5.000 punti per Una pioggia vita Anzi vai no Lo faccio subito Oh quanti zombie sciogli Eh a me il po' Aspetta ma c'è un po' di Claim Anch'io tricino Quattro Cinque Qua tu sono pizzo Ballistic knife Dai Eh eh Ballistic knife Tante robe Contra i viscidoni Che viscidoni hanno sempre meno Vita di quegli altri Eh però c'è un po' di stati 3-4 per ammazzarli Vabbè Vabbè No vabbè Sì è lì davanti Vai potenzio Vai potenzio Vai potenzio Ma mi fai la domanda e poi potenzio Ma Oh ma Calma ti eh Oh io ho detto potenzio Io potenzio Io potenzio Io potenzio Eh no ma che fa ti rispondi da solo Ma ti rispondi da solo eh No che scherzo dai No t'ho visto e' deciso dai Eh ragione Non ho detto nulla Le anni 94 Le anni 94 Me l'ha incurato due volte il pacco pancio di mio Ah su Eh si è un po' stronzo su pacco pancio di the rice Ma ma Che poi no delle volte va via subito Delle volte invece ci mette vent'anni per andare via Sì davvero ma poi lo vedi anche perchè lo vedi alle porte che tipo se si vedono più velocemente Dopodiché Sì appunto Va bene dai Vabbè dai dai Ammazzate 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 Ancora Seconda volta di spazio Ancora di spazio Vai se mi fai anche ammazzare eh Vittoria etica Mamma mia E' stata una splendida Ah ma ha scritto Vittoria etica c'è scritto pure Sì Epic Queen E' in inglese No ma poi non c'è scritto Epic Queen c'è scritto Happy WN tipo una cosa del genere Ah si Tu sempre sei Ah si 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 Scritto così io Siccome vedo totalmente tanti video inglesi io che io prendo tutti i nomi delle armi in inglese Quasi eh non tutti Vabbè che ci vuol di nuovo a tradurre Epic Queen Sì vabbè so Vittoria etica E' tipo il guide file il comando potenzialato mi sembra che è Eh Poi predatore tipo si si predese Si si predatore Poi predatore è predatore Poi Cazzatine per noi platano vero Eh si appunto Buono il guide, il guide, il guide, non è malaccio Si è il guide è un mostro È un mostro il guide Poi c'è il mirino con la rondella blu C'è proprio tanta fantasia No invece io c'ho tipo C'ho tipo una piramide rosa io con Ah la piramide con l'occhio c'hai mica Eh vedrai la piramide con l'occhio Si è famosa è una struttura No non è un occhio eh No non è quello lì Ah è quello lì Ce lo presento anch'io Quel disegno lì Eh era Eh l'ha fatto Diego Si vabbè Non facciamo nomi No no si è No l'impresente non fa cognome Eh un cognome Il nome è Diego ce ne sono tantissime Diego Billioni 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 proprio Vabbè si è fatto Ho fatto quel disegno lì Di Platano ce ne sono un bordo Di Platano no di Platano ce ne sono uno invece C'è altro che Eh 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 Poi i suicidi Poi di Platano e i suicidi Eh Ferrari eh Sì appunto Da vera eh E poi aspetta Com'è che viene su Killzone 3 e viene Platano suicida se è suicidato Sì 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 A un certo punto A una partita per sbaglio sono caduti sotto il ghiacciaio Sì Dico Platano non suicida se è suicidato Eh quella partita lì è finita 1 40 perché il 48 mi sono suicidato perché è troppo bello Eh 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 Fatti Problema mia Qual è la partita con il ghiacciaio? Sono mai stabito Eh ora non lo so come si chiama Eh ok Il nome sarà difficile Ho attivato il collegamento a TeresaSport Sì ragazzi Io faccio Vai fatto Ti quanti ne hai? Ne hai tanti? Pochi? E' un pochettino Ora la fortuna di Gambizzati Oddio Era nata Mi serve un'arma a muore Non ho capito quanti ne avevi tanti o pochi e non ho sentito Eh un pochettino sì ma sono maggior parte Gambizzati Ah ok io ce l'ho zero praticamente Guarda che ne ho divertiti qui con noi Mi vengono divertiti a te No me ne arriva qualcuno così sporadico Eh anche me stanno tornando a parte di me Poi c'ho l'h21 che praticamente non lo ho utilizzato per niente Non mi vengono di giocare il dottore L'h21 che ti c'è a pompa? No, ak21 Ah ak21 Ah ak21 Sì ah eh senti plato sono stacco Sono un'auto Che poi oggi mamma che volevo uscire però invece sta piovendo un casino qua Vai Io sono solo uno eh sono apposto io Vai Io vado a farmi dare altre tasse perchè non mi voglio tenere ancora lo spazio che poi ho finito tante munizioni Non è la merda zombie Allora anche ora vado a cambiare No in realtà volevo potenziare l'h21 E' una bestia l'arma via Non so se cambiarlo o potenziarlo No via potenza No potenza potenza Oddio Oddio Il low Mi dico low Eccolo di nuovo Eccolo Di nuovo L'ho cambiato perchè mi stavo sul cazzo adesso invece Olè Ecco mi Ah Ti pareva? Che laggatone che laggatone mi ha dato Sì aspetta Sì conclude l'episodio Niente vabbè ragazzi Anche per questo episodio è tutto Quindi niente lasciate un mi piace un commento per fare contento platano perchè sennò vi viene a piagliolare qua No no Non è vero niente ok Va bene Quindi niente ci vediamo al prossimo episodio Bella Buongiorno